L'ovaio. Per quanto riguarda l'ovaio, gli esami strumentali sono l'eco, l'attacca e la risonanza magnetica. L'eco è l'esame di primo livello, soprattutto in pediatria e nelle donne fertili. I tipi di eco che usiamo sono quello addominale e quello transvaginale. Quello addominale ha bassa frequenza tra 2 e 7 MHz e viene fatto con la vescica piena, fornisce una valutazione degli organi dell'intera pelvi e delle masse più grandi. Quello transvaginale invece viene fatto con alta frequenza, vescica vuota e valuta gli organi interni e i tessuti molli. L'attacca si fa in caso di stadiazione tumorale e valutazione della vascularizzazione, la risonanza magnetica in caso di anche qui stadiazione tumorale e anomalie morfologiche. Vede molto bene i tessuti pelvici. Importante è dare una valutazione di quelle che sono le patologie che riscontriamo a livello varico, cisti semplici e cisti complesse. Le cisti semplici sono sempre benigne e all'eco come reperti abbiamo un contenuto anecogeno, pareti sottile e regolari. Di solito sono cisti funzionali che possono essere a loro volta follicolari e luteiniche. I soggetti che presentano queste cisti funzionali di solito hanno cambiamenti ormonali mensili e quindi chiaramente queste cisti tenderanno a regredire dopo due cicli in genere. Se sono meno di 5 cm di diametro hanno una benignità quasi conclamata, quasi sempre. Se invece le dimensioni sono superiori a 5 cm e non regrediscono dopo due cicli, allora sono sospette come malignità. La cisti complessa invece per l'80% indica neoplasie ovariche cistiche, di solito appunto benigne e i reperti dell'eco sono un contenuto corpuscolato, pareti irregolari e spesse. La diagnosi differenziale è fondamentale tra il benigno e il maligno e viene fatta con la vascolarizzazione. Molto vascolarizzate saranno le masse con sospetta malignità. Per quanto riguarda l'iter diagnostico, allora ricordiamoci invece che prima di tutto si fa l'eco transvaginale che ci permette di individuare cisti semplici che possono essere dimensioni inferiore a 5 cm e finisce la sequenza, non c'è follow up. Se sono superiori a 5 cm si fa il follow up. Se abbiamo cisti complesse invece si fa la risonanza magnetica che ci permette di cercare sangue e che capta quindi il mezzo di contrasto da cisti.